Cos'è accaduto di tanto terribile a Colleen Stan da farle guadagnare il soprannome di ragazza nella scatola? Oggi parliamo di una storia veramente assurda e anche piuttosto conosciuta nel mondo del true crime. È possibile ne abbiate già sentito parlare, ma a chi non la conosce preferisco non anticipare nulla perché tutte le vostre domande avranno le risposte che meritano nel corso del video e saranno delle risposte davvero agghiaccianti. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E nella storia di oggi, vi avviso, parleremo davvero di qualsiasi cosa. Se pensate che alcuni argomenti siano troppo crudi, per esempio, ci vediamo tranquillamente al prossimo video della prossima settimana senza nessun problema. Per quelli che sono rimasti invece, iniziamo. Prima però sicuramente avrete notato lo sfondo cambiato. Purtroppo per questa settimana sarà così, non ci posso fare niente. Anzi, mi sa che dalla prossima cambierà definitivamente. Non sarà questo qui, ma un altro ancora. Stanno succedendo un po' di cose che chi mi segue su Instagram già sa. Però sì, ecco, per oggi spero che non vi faccia proprio esattamente schifo questo sfondo. Ma comunque è solo una cosa di contorno perché ovviamente dobbiamo concentrarci sulla storia. Quindi, detto questo, cominciamo davvero. Direi di partire proprio con la presentazione di quella che sarà la sfortunata protagonista delle vicende. Il suo nome è Colleen Stan, ve ne ho parlato brevemente all'inizio del video, ed è nata il 31 dicembre 1956 in Oregon, negli Stati Uniti. La sua infanzia può definirsi molto tranquilla. Colleen, infatti, cresce in una famiglia amorevole, nonostante i suoi genitori avessero divorziato quando lei era ancora molto piccola. Questo aspetto della sua vita, però, non l'ha influenzata in maniera negativa perché i suoi genitori, nonostante fossero separati, fanno del loro meglio affinché le loro divergenze personali non influenzino in alcun modo la crescita di Colleen. E ritengo che questo sia davvero ammirevole perché purtroppo è raro sentire di situazioni simili. Soprattutto perché, tenete a mente, siamo negli anni 60. Il divorzio in generale non era così diffuso come oggi e i genitori si comportavano in maniera piuttosto diversa rispetto ora, capitemi. Quindi possiamo dire che loro, per l'epoca, sono un'eccezione. Due genitori amorevoli che, nonostante la separazione, fanno di tutto per crescere in maniera adeguata i loro figli. Colleen e i suoi fratelli, infatti, passano diverso tempo sia con la madre sia con il padre, che danno davvero la massima priorità ai figli, mettendoli sempre al primo posto e non facendo mai mancare loro nulla. Non sappiamo molto altro riguardo la sua infanzia, l'infanzia della ragazza, quindi purtroppo dobbiamo schippare direttamente alla sua adolescenza. Quando Colleen compie 19 anni, decide di andare a vivere con alcuni amici e si trasferisce a Eugene, sempre in Oregon. Il 19 maggio 1977, quando Colleen ha quasi 20 anni, decide di fare visita ad una delle sue migliori amiche per farle una sorpresa per il suo compleanno. L'unico problema è che questa amica vive a Westwood, in California. E guardando su Google Maps ho visto che la distanza tra le due città è di oltre 1300 km, quindi non proprio la porta accanto. Tuttavia Colleen vuole assolutamente fare una sorpresa alla sua migliore amica, che non vede da un po', quindi prende a cuore questa sorta di missione e il 20 maggio, quindi la mattina seguente, decide di intraprendere questo lungo viaggio e di farlo, ovviamente come si faceva negli anni 70, in autostop. Colleen sa benissimo che percorrere tutta quella strada in autostop avrebbe allungato i tempi del suo arrivo, ma la ragazza quando si mette in testa qualcosa non è soddisfatta finché non la porta a termine. Ora la domanda sorge spontanea. Perché una ragazza di 20 anni dovrebbe fare l'autostop per 13 ore di viaggio totalmente da sola senza avere la possibilità di chiamare nessuno? Perché siamo negli anni 70 e i cellulari ovviamente non esistono. Beh, la risposta è semplice, dovete sempre ricordare il periodo in cui sono avvenuti i fatti. Sono gli anni dei figli dei fiori, della libertà incondizionata e fare l'autostop a quei tempi era del tutto normale, lo facevano proprio tutti, era come prendere adesso un qualsiasi mezzo di trasporto. E tutti i giovani del paese, ma non solo, scroccavano passaggi a sconosciuti. Sapevano che era abbastanza pericoloso, ma comunque la gente tendeva a fidarsi. La ragazza comunque trova praticamente subito un passaggio e riesce a raggiungere abbastanza facilmente la città di Red Bluff, nella California settentrionale. E sempre guardando su Maps ho visto che a quel punto è praticamente a metà del suo tragitto. Quindi le manca ancora un bel pezzo, ma il viaggio sembra procedere al meglio senza alcun intoppo. Una volta arrivata a Red Bluff, la persona che le aveva dato il passaggio, ovvero un camionista, le comunica che era arrivato a destinazione. Quindi Colleen, da lì, avrebbe dovuto fare di nuovo l'autostop, lo scalo in autostop, con la speranza di trovare in fretta qualcun altro di affidabile. Red Bluff non è una grande città, all'epoca dei fatti contava poco meno di 10.000 abitanti. Quindi le possibilità di trovare un nuovo passaggio per lei in quel momento si riducono notevolmente. Ma Colleen, ovviamente, non demorde. Rimane per ore a chiedere un passaggio alle macchine che passavano. Nel giro di quelle ore, in realtà, costeranno due automobili che le proporranno di accompagnarla verso sud. Quindi nella stessa direzione in cui doveva andare lei. Ma la ragazza rifiuta entrambe le proposte. E il motivo per cui lo fa è che nessuno dei due le era sembrato affidabile. Perché, sì, nonostante tutto, Colleen era una ragazza molto seria e cauta. E quindi aveva rifiutato entrambe le offerte. Poco dopo, però, un'altra auto accosta al lato della strada. E al suo interno Colleen vede che c'è una giovanissima coppia. Probabilmente entrambi della stessa età della ragazza, o comunque giù di lì. Il guidatore le chiede subito se servisse un passaggio. Allora la ragazza sbircia all'interno del veicolo per analizzare la situazione. E nota che la ragazza al lato del passeggero stava tenendo in braccio un neonato. Questo automaticamente infonde in Colleen una buona sensazione. Dice quindi loro che ha bisogno di uno strappo fino a Westwood. Uno strappo di 600 chilometri. E vabbè, comunque, indovinate un po', la coppia dice che anche loro erano diretti proprio lì. Quindi a posto, tutto perfetto. Nel complesso Colleen vede quella giovane coppia come un dono dal cielo, anche perché ormai era in viaggio da molte ore. Era stanca e l'unica cosa che voleva fare in quel momento, l'unica cosa che desiderava, era arrivare il prima possibile dalla sua amica. Quindi sale in questa vettura e partono tutti insieme. La coppia dentro l'auto è formata da Cameron e Janice Hooker. Una giovane coppia sposata già da parecchi anni, anche se l'arrivo del bimbo in realtà era una cosa piuttosto recente. Infatti il neonato aveva circa otto mesi. All'inizio del viaggio i tre non parlano molto, in auto c'è molto silenzio. Ma questo in realtà non turba particolarmente Colleen. Perché anche lei non è che avesse molto voglia di parlare e conoscere queste persone, era molto stanca. Poco dopo però Cameron inizia a fare domande alla ragazza, ma proprio tantissime domande. Le chiede da dove venisse, dove era diretta, quanti anni avesse, eccetera eccetera. Insomma domande lecite visto che la giovane coppia stava portando una sconosciuta in macchina. La corsa quindi continua nel migliore dei modi in realtà. E ad un certo punto la coppia decide di fermarsi a un distributore a bordo della strada per fare benzina, sgranchirsi le gambe e magari comprare qualcosa da mangiare per il viaggio. Così anche Colleen ne approfitta per andare in bagno, darsi una rinfrescata e cose così. Ma mentre è lì da sola in bagno, si guarda allo specchio e una strana sensazione la avvolge, anzi la travolge. La terribile sensazione di non sentirsi a sicuro e di essere in pericolo. Una voce nella sua testa per chissà quale motivo le dice di scappare via subito. E come vi dico sempre, se sentite una sensazione del genere dovete assecondarla e mettervi a sicuro, perché questo nostro sesto senso, lo definirei, non sbaglia quasi mai. E in ogni caso è meglio sbagliarsi e mettersi a sicuro che rischiare che accada qualcosa di brutto. Tuttavia, la ragazza decide di scacciare quei brutti pensieri, perché in fondo non c'era effettivamente nulla di cui aver paura, perché si trattava di una giovane coppia con un neonato che le stava gentilmente offrendo un passaggio fino a Westwood. E poi in quel momento la ragazza non aveva la minima idea di dove si trovasse e non sapeva se sarebbe riuscita a trovare un altro passaggio. Quindi andarsene in quel momento, pensandoci in maniera razionale, non aveva proprio senso per lei. Colleen quindi decide di ignorare questa sensazione. Esce dal bagno e risale in macchina. È in quel momento però che nota uno strano oggetto posizionato sul sedile posteriore. Una strana scatola di legno con un grosso buco su un lato e due chiavistelli dall'altro lato. La ragazza guarda quella scatola con un'espressione interrogativa e, intanto, la macchina riparte. I tre erano ripartiti solo da mezz'oretta, quando all'improvviso Cameron guarda Colleen dallo specchietto retrovisore e con tono calmo le dice che avrebbero fatto una brevissima sosta perché fuori strada c'erano alcune grotte di ghiaccio che volevano andare a visitare. Ecco, in quel momento la ragazza risponde che non c'era alcun problema ma dentro di lei sperava davvero di arrivare il primo possibile a Westwood perché quella sensazione che aveva provato poco prima in bagno adesso era ritornata ancora più forte. La macchina quindi gira in una strada sterrata completamente isolata e dopo poco tempo si ferma accanto ad un ruscello. Janice scende dall'auto insieme al nonato e si avvicina all'acqua per rinfrescarsi un po' e Cameron, dopo pochi secondi, scende a sua volta, ma non per avvicinarsi al ruscello. Anzi, va nella direzione opposta e sparisce dal campo visivo di Colleen. Allora la ragazza comincia a guardarsi intorno un po' spaesata, non ha la minima idea di dove si trovi, è in un posto completamente isolato e lontano da qualsiasi strada o città, da qualsiasi altra persona e ora non sa nemmeno dove cavolo fosse andato Cameron. Letteralmente pochi secondi dopo, lui apre di scatto la portiera posteriore, salta sul sedile vicino alla povera Colleen e le punta un coltello alla faccia. Con tono sempre calmo, le dice di non muoversi e di non urlare, altrimenti le avrebbe fatto del male e senza lasciarle nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, recupera quella grossa scatola di legno che Colleen aveva visto poco prima e gliele infila letteralmente in testa. In quel momento la ragazza realizza che quell'oggetto era stato fatto proprio per questo motivo, per rinchiudere la testa di una persona e impedirle di vedere cosa aveva intorno. Ma non è tutto perché la scatola era anche riempita di materiale isolante. Questo significa che la ragazza avrebbe potuto urlare e piangere all'infinito, ma nessuno avrebbe potuto sentire le sue grida di aiuto. Dopo pochissimo tempo Janice fa ritorno in auto e Cameron si rimette alla guida. Come immaginerete a questo punto però non vanno in direzione di Westwood. Invece si dirigono verso la casa della coppia, situata non molto lontano, da Red Bluff. La macchina ad un certo punto si ferma, Cameron scende dalla vettura, prende Colleen da un braccio e la trascina verso l'interno di casa sua. In tutto ciò ricordatevi che lei ha quello strano marchigegno sulla testa che molto probabilmente le rende anche molto difficile orientarsi o anche solo restare in equilibrio. In quegli interminabili minuti la ragazza deve essere stata davvero terrorizzata. Appena entrano in casa Cameron si dirige direttamente insieme interrato e insieme a Colleen e le toglie la scatola di legno dalla testa, ma subito dopo le mette una benda sugli occhi. Per questo motivo possiamo ipotizzare con quasi assoluta certezza che lui non volesse in alcun modo farle vedere dove si trovava effettivamente. Dopodiché comunque Cameron la lega al soffitto per i polsi e la lascia sospesa lì. Questo ovviamente fa andare definitivamente nel panico la povera Colleen perché oltre a non avere la minima idea di dove si trovasse, ora la paura che lui le facesse del male, tanto male, stava diventando sempre più reale. E il dolore causato dal rimanere appesa diventava sempre più insopportabile. Così la ragazza comincia ad urlare e a piangere, cosa direi più che comprensibile. Ma questo non piace per niente a Cameron, che recupera in fretta un coltello e glielo punta alla gola, minacciandola che se non avesse smesso di urlare le avrebbe reciso le corde vocali. Aggiungendo che l'aveva già fatto in passato con un'altra ragazza. Ora ricordatevi bene questa cosa che ha detto perché si ricollegherà dopo, ne parleremo dopo. Ricordatevi questa cosa. Cameron comunque a quel punto prende una frusta che teneva lì nel seminterrato, probabilmente uno dei suoi tanti oggetti di tortura, e comincia a frustrarla per dieci lunghissimi minuti. Una volta finito, recupera una scatola di legno e la posiziona sotto i piedi di Colleen, in modo da darle finalmente un po' di tregua dal dolore ai polsi, che stavano reggendo comunque il suo intero peso da ormai troppo tempo. Intanto la ragazza sente Cameron spostare qualcosa di pesante, e subito dopo l'uomo la slega per rimetterle la scatola di legno in testa. Quello che lei non sa è che c'era un'altra scatola da aspettarla, ma questa volta una scatola più grande. A quanto pare a Cameron piaceva unire le sue due passioni più grandi, ovvero la passione per il legno e quella per costruire veri e propri oggetti di tortura. Comunque questa scatola era stata costruita appositamente per riuscire ad ospitare tutto il corpo di Colleen, e infatti potrebbe ricordare una specie di bara. A quel punto Cameron prende la ragazza e la forza ad entrare in questa bara, e sinceramente non riesco nemmeno ad immaginare quanto debba essere stato terrificante per lei, perché non solo in quel momento stava per essere chiusa in una scatola fatta su misura per lei, ma aveva anche quell'aggeggio infernale in testa che non le faceva vedere o sentire nulla, e che probabilmente le rendeva anche molto difficile respirare. Immaginate passare un solo minuto in queste condizioni. Io penso che potrei morire. E invece Cameron decide di lasciarla lì, per tutta la notte. Più di preciso per un totale di quasi dieci ore. Sinceramente io non so come abbia fatto a non andare nel panico più assoluto, a non perdere la testa, cioè questo è letteralmente l'incubo peggiore di ogni persona claustrofobica sulla faccia della terra. Comunque la mattina seguente Cameron torna nel seminterrato e fa uscire Colleen dalla sua bara. Ma la ragazza in quel momento non sa che c'è un altro strumento pronto per lei. Uno strumento che viene descritto come una specie di cavalletto, una struttura di legno su cui la vittima viene distesa e le vengono legate mani e piedi. Ai tempi delle torture medievali uno strumento del genere era molto utilizzato. Cameron comunque le porta anche del cibo, ma Colleen in quel momento lo rifiuta. E questo purtroppo non fa altro che farlo infuriare. L'uomo quindi decide di punirla, la frutta, di nuovo. E decide di lasciarla in quella posizione, legata su quello strumento, per dieci giorni interi. Quindi per dieci giorni Colleen è costretta ad avere quella scatola sulla testa e rimanere ferma in quella posizione. Gli unici momenti in cui si può muovere è quando deve andare in bagno o quando deve mangiare qualcosa, giusto il necessario per sopravvivere però niente di più. Questa è la punizione che Cameron decide di infliggerle per aver rifiutato il cibo la prima volta. Il che evidenzia il suo stato mentale completamente instabile e disturbato. Al termine di questi dieci giorni infiniti per lei, Cameron rimette Colleen nella bara e da quel momento in poi le sarà permesso di uscire dalla scatola a grandezza umana soltanto una volta al giorno, per una sola ora al giorno. Questo significa che per ventitré ore tutti i giorni era costretta a rimanere chiusa lì dentro. Nell'ora di libertà Colleen poteva usare il bagno e mangiare qualcosa, ma Cameron ne approfittava anche per praticare su di lei diverse tecniche di bondage, come ad esempio frustrarla, strozzarla fino a farle quasi perdere i sensi, darle delle scosse elettriche, immergerle la testa sott'acqua fino a farla quasi annegare e così via. Questa è la routine che Cameron impone a Colleen e lo fa per un totale di sei mesi. Sei mesi in cui questa povera ragazza è costretta a rimanere chiusa in una scatola, letteralmente una scatola, per ventitré ore al giorno. E nell'unico momento in cui le è permesso uscire praticamente diventava il giocattolo di Cameron, lui abusava di lei in qualsiasi momento. Deve essere stato un vero incubo per lei, un vero inferno anzi. Nel corso di questi sei mesi il ragazzo costruisce addirittura un'altra scatola per Colleen, questa volta una scatola di forma triangolare che posiziona nel sottoscala, che stranamente mi ricorda un po' Harry Potter. In quel periodo comunque, una mattina, Cameron porge alla ragazza un foglio. Quest'ultimo è una sorta di contratto, più di preciso, un contratto di schiavitù. Secondo quanto riportato e come spiegato da Cameron, questo contratto era stato stipulato da una società chiamata The Company, che, spiega Colleen, sarebbe una sorta di setta clandestina che si occupava della tratta degli schiavi. Se una persona, dopo aver firmato questo contratto, avesse tentato, malaguratamente, di fuggire, allora sarebbe stata catturata e torturata fino alla morte. Continua dicendole che lui stesso faceva parte di questa società e che aveva scelto proprio Colleen come sua schiava. Oltretutto, i membri di questa compagnia erano dappertutto. Osservavano costantemente tutti gli schiavi in modo da poter tenere d'occhio eventuali fughe e poi procedere con le punizioni e con le torture. Ora so che per noi sarebbe davvero difficile credere ad un'assurdità del genere, ma dobbiamo metterci nei panni della povera Colleen e penso che l'obiettivo di raccontare queste storie sia anche riuscire a empatizzare con le vittime, no? Ecco, la ragazza ormai era rinchiusa da mesi, debole, malnutrita, ferita e non aveva nessun contatto con il mondo esterno da tanto tempo, da troppo tempo. In quel momento l'unica cosa che può fare è aggrapparsi a qualsiasi cosa che le venga detto pur di sopravvivere e quindi ovviamente crede a tutta questa storia del The Company e ovviamente, ancora più ovviamente, firma questo contratto di schiaviù che la lega a tutti gli effetti al suo aguzzino. Ma poi in ogni caso non è che avesse molte alternative, cioè non uso neanche immaginare che cosa sarebbe successo se lei avesse deciso di non firmarlo. Comunque dal momento in cui la ragazza firma il contratto le cose iniziano in realtà ad andare un po' meglio per lei. Prova a spiegarmi. L'obiettivo di Cameron con questo contratto era proprio riuscire a spaventare Colleen a tal punto da costringerla a rimanere con lui anche senza essere costretto a rinchiuderla nella scatola. Cioè lui sostanzialmente voleva una schiava anche che stesse in giro per casa senza, diciamo, il contro di avere la possibilità che lei sarebbe fuggita. Quindi per questo che l'ha fatto firmare il contratto l'ha spaventata così tanto. Spaventandole e minacciandola era consapevole del fatto che lei non avrebbe mai tentato la fuga anche se non fosse stata sotto la sua supervisione. E da questo momento in poi, questo caso prenderà una svolta ragazzi assurda, credetemi, parleremo anche di alcune dinamiche che penso conosciate. Ora ci arriviamo. Da quel momento Colleen può rimanere fuori dalla scatola in realtà anche tutto il giorno. Lei ha permesso andare al piano di sopra per svolgere i lavori domestici, cucinare, occuparsi del bambino, insomma anche aiutare Janice. Deve però rivolgersi a Cameron solo chiamandolo signore o padrone e se ve lo steste chiedendo la stessa cosa valeva anche per Janice. Arriviamo così all'aprile del 1978, quindi dopo praticamente un anno dal rapimento della ragazza. Una mattina Cameron le comunica che nel giro di qualche giorno si sarebbero dovuti trasferire in una casa mobile, ovviamente quindi più piccola, senza darle però ulteriori informazioni. Dopo nemmeno una settimana fanno effettivamente il trasloco ed essendo una casa mobile ovviamente era sprovvista di un seminterrato. Quindi il problema principale di Cameron in quel momento diventa capire dove cavolo tenere Colleen. Decide infine di costruirle un'altra scatola a grandezza umana, ma questa volta più piccola delle altre. Praticamente una vera e propria bara, cioè letteralmente minuscola. E dopo un po' di riflessioni arriva alla conclusione che l'unico posto adatto per tenerla era sotto al letto dove dormivano lui e Janice. Quindi sì, prima Colleen doveva rimanere chiusa nella scatola per tutta la notte, ma almeno aveva una sorta di privacy. Ora neanche quello. Si ritroverà costretta a sentire i due fidanzati consumare rapporti sessuali letteralmente sopra di lei. Tuttavia, dal primo giorno in cui si trasferiscono, la routine cambia nuovamente perché Cameron decide di costringerla di nuovo a rimanere nella scatola per 23 ore al giorno, come accadeva all'inizio. Poco dopo il trasferimento, Janice scopre di aspettare un altro bambino. Quindi nel periodo della gravidanza viene consentito a Colleen di uscire più spesso dalla scatola, ma solo ed esclusivamente per aiutare l'altra donna nelle faccende domestiche, per cucinare, darle anche una mano con l'altro bambino, che ormai aveva quasi due anni, e cose del genere. All'inizio del settembre 1978, Janice dà alla luce il secondo bimbo, e lo fa letteralmente nel suo letto. E nel mentre Colleen si trovava letteralmente sotto lo stesso letto, dentro la sua scatola, miracolosamente comunque anche dopo il parto, viene concesso a Colleen di avere totale libertà, non riesco a farlo col microfono qui, ma ovviamente con libertà intendo soltanto che le era concesso stare fuori dalla scatola. Cameron in quel periodo rimane fuori di casa tutto il giorno per lavorare, e quindi Colleen può avere anche un attimo di tregua dal suo aguzzino, un attimo di tranquillità, possiamo dire. Intanto, per via di questo, crea un legame un po' più forte con Janice e con i bambini. Se ci pensate, Janice non aveva mai fatto del male a Colleen, lei per tutto il tempo era solo stata un'osservatrice, un'aspettatrice di quello che le veniva fatto. Anche se diri il vero, penso che non sapesse realmente al 100% cosa le facesse Cameron, ma a questo ci arriviamo tra poco. Questa routine, questa nuova routine, viene mantenuta per circa un anno e mezzo. Un anno e mezzo durante il quale Colleen rimane a casa per le faccende domestiche insieme a Janice, e le viene persino concesso di uscire per fare giardinaggio, o addirittura portare i bambini a passeggio. Durante la notte però, deve stare chiusa nella sua scatola. Tutto questo fino al giugno del 1980, quando Janice si ritrova costretta a trovare a sua volta un lavoro, perché ormai la famiglia si era allargata e servivano più soldi. Questo significa che da quel momento in poi, Colleen sarebbe rimasta da sola e in casa tutto il giorno, a fare la casalinga e la tata a tempo pieno. Avrebbe dovuto preparare la cena a Cameron e Janice, e fare in modo che la casa fosse sempre pulita e in ordine. E lo so cosa vi state chiedendo. Perché non scappa? Perché non se ne approfitta per andarsene? Era lì da sola. Però vi ricordo che Colleen credeva ancora a questa storia di The Company, e pensava davvero che i membri dell'associazione la stessero osservando tutto il tempo in ogni suo movimento. scappare per lei equivaleva alla morte. E poi a questo punto siamo a oltre due anni dall'inizio della prigionia, due anni in cui Colleen non aveva avuto contatti o interazioni con nessun altro, se non con i suoi rapitori. Nel corso del tempo, poi gradualmente, le era anche stato concesso di, insomma, avere più libertà, e tra l'altro le viene anche concesso addirittura di dormire fuori dalla scatola. Comincia quindi a passare la notte per terra in bagno, ma libera non più nella scatola, e questo sicuramente rappresenta un bel miglioramento per lei, considerando che le vengono imposte sempre meno restrizioni. Colleen, infatti, durante il giorno è libera di uscire con i bambini, fare anche lunghe passeggiate, chiacchierare con i vicini, andare a fare la spesa e via dicendo. Purtroppo, però, non tutto è dovuto, e Colleen lo sa benissimo, perché in quel periodo Cameron, per la prima volta, la violenta sessualmente. Non abbiamo ancora affrontato questo aspetto, quindi ne parlerò brevemente ora. Janice aveva sempre imposto a Cameron di non avere alcuna prestazione sessuale con la vittima, infatti era la sua unica richiesta o esigenza. Cameron poteva praticare su Colleen delle tecniche di bondage e trattarle effettivamente come una schiava, ma gli era vietato fare del sesso con penetrazione. A seguito di tutte le libertà concesse a Colleen, però, Cameron comincia effettivamente a stuporla almeno un paio di volte a settimana, e lo fa ovviamente nascondendola alla moglie, perché come vi spiegavo, lei era totalmente contraria a tutto questo, non voleva assolutamente che lui avesse con lei. Quindi Colleen si ritrova costretta a mantenere questo segreto anche a Janice, e Cameron, per ringraziarla, tra virgolette, farà una cosa abbastanza inaspettata. In realtà ringraziarla non è una parola adeguata, penso più che altro che lui si sentisse davvero sotto pressione per paura che Colleen confessasse a Janice, che la violentava, e quindi per assicurarsi che mantenesse il segreto, le concede una sorta di regalo, ovvero di poter contattare la sua famiglia. So che non ho ancora parlato della famiglia di Colleen, ma questa è davvero una storia lunga e totalmente assurda. Quindi devo procedere con calma e toccare ogni punto al momento giusto. Quindi la ragazza a questo punto era scomparsa da quasi tre anni. E la sua famiglia, dal momento della sparizione, non aveva mai smesso di cercarla. Ricordate però che Colleen doveva fare una sorpresa alla sua migliore amica per il compleanno, no? Cioè, è partita, tutto è partito dal fatto che voleva fare questa sorpresa alla sua migliore amica e andare a trovarla, ok? La sorpresa voleva quindi dire che la sua migliore amica non era al corrente di niente, non aveva la minima idea del fatto che Colleen sarebbe andata a trovarla. Quel 20 marzo del 78 Colleen sarebbe dovuta arrivare dalla sua migliore amica, passare tre-quattro giorni con lei e poi tornare a casa sua in Oregon. La sua migliore amica però, non sapendo assolutamente nulla di questa sorpresa, ovviamente non si è allarmata, non vedendolo arrivare, non sapeva neanche che doveva arrivare. E di conseguenza la famiglia e i conquilini di Colleen per quei tre-quattro giorni non hanno minimamente pensato che la ragazza potesse essere stata rapita, fosse in pericolo, perché ovviamente pensavano che si trovasse dalla migliore amica in California, a festeggiare. I sospetti iniziano ad arrivare ovviamente solo quando famiglia e amici non la vedono tornare dalla California e a quel punto che contattano la migliore amica di Colleen per farle domande e in sostanza le chiedono se per caso la ragazza avesse deciso di fermarsi magari un po' di più da lei per staccare un po', per insomma stare con lei un po' più di tempo. Ma il panico ovviamente è scattato quando la migliore amica aveva risposto che non aveva la minima idea di che cosa stessero parlando e che Colleen non era mai arrivata da lei in California. Oltretutto la ragazza aveva anche ammesso che era piuttosto dispiaciuta di non aver ricevuto neanche una chiamata dalla sua migliore amica per il compleanno. E sì, è proprio in quel momento che la famiglia e gli amici cominciano a collegare tutti i puntini e capiscono che doveva essere successo qualcosa di strano. La denuncia di scomparsa quindi verrà depositata soltanto cinque giorni dopo il suo effettivo rapimento. Ma si sa che nei casi di rapimento le prime 24 ore sono quelle più cruciali. Le prime ore. Da quel momento i genitori di Colleen non si sono mai dati pace. Infatti durante i primi mesi sono stati impegnati attivamente nelle ricerche cercando la giorno e notte insieme agli agenti di polizia e arresto della famiglia. Immaginate quindi dopo tre anni ricevere una chiamata e sentire la voce della propria figlia. E ora vi dirò com'è andata perché anche questa cosa è abbastanza ambigua. Cameron permette alla ragazza di fare una chiamata alla sua famiglia e ovviamente lo fa sotto la sua stretta supervisione. Al telefono risponde una delle sorelle di Colleen che sentendo la sua voce quasi rischia di svenire. All'inizio non riesce a crederci ma non appena alla conferma che quella dall'altra parte era effettivamente la sua sorella scomparsa allora chiama tutti chiama l'intera famiglia. Tutti i membri quindi si riuniscono intorno al telefono per sentire la sua voce per sapere come stesse per farle domande cioè avevano tantissime domande nella testa da farle. Tutti volevano sapere cosa fosse successo dove fosse Colleen ma allo stesso tempo però nessuno aveva il coraggio di farsi avanti con queste domande perché temevano che la ragazza si sarebbe spaventata e avrebbe chiuso il telefono. Colleen però rassicura tutti dice di stare bene la famiglia cerca di non chiedere troppe informazioni tutte insieme per paura che riattaccasse e la prima cosa che viene in mente a tutti è che la ragazza avesse deciso di entrare a far parte di una setta. Questo avrebbe spiegato almeno il motivo per cui non si era fatta sentire per tutto quel tempo. Lo so che la situazione è molto strana ma come sempre dobbiamo riuscire a immedesimarci in quelle persone in quegli anni e purtroppo non era inusuale che i giovani a quel tempo finissero in compagnie strane perché negli anni settanta le sette religiose e gruppi simili erano davvero tanto in voga. Arriviamo così al 1981 Cameron un giorno dice a Colleen di aver ricevuto un permesso speciale dalla società The Company per portarla a fare visita alla sua famiglia di persona. Così a metà marzo i due escono da soli lasciando Janice a casa a badare ai bambini e partono insieme per l'Oregon. Proprio all'inizio del viaggio Cameron riferisce a Colleen che avrebbero dovuto fare una tappa al quartier generale della compagnia per avvisarli del loro viaggio. Questo presunto quartier generale si trovava a Sacramento sempre in California. Continua dicendo alla ragazza che arrivati lì lui sarebbe dovuto entrare e fare un piccolo test con la macchina della verità per assicurare a quelli della compagnia che lui fosse ancora leale e non avesse intenzione di far scappare Colleen. E non lo so. Vabbè lei ci ha creduto ovviamente perché era l'unica cosa che poteva fare che ci ha creduto. Comunque quando arrivano alla prima sosta Cameron esce dalla macchina ed entra in questo edificio in una zona un po' abbandonata di Sacramento. Colleen lo aspetta in macchina per circa una mezz'oretta e quando lui fa ritorno le comunica di avere una bella notizia. A quanto pare quelli della compagnia avevano approvato la visita ai familiari della ragazza e qui mi chiedo dove cavolo è andato in realtà sto Cameron perché sicuramente questa storia dell'organizzazione era inventata quindi dove è andato secondo voi? Cos'era quell'edificio? Non lo so. Fatto sta che ovviamente lei crede ad ogni singola parola quindi rimane estremamente felice di ricevere questa notizia. Così i due finiscono per raggiungere la famiglia della ragazza e sinceramente non riesco bene ad immaginare quale sia stata la reazione dei familiari nel vedere Colleen fuori dalla loro porta dopo ben tre anni. Le emozioni devono essere state fortissime. La ragazza arriva però ovviamente insieme a Cameron e lo presenta ai suoi familiari come il suo fidanzato. Chiaramente non poteva dire molto altro perché la paura che la compagnia facesse del male anche alla sua famiglia ora era un pensiero reale. Lei pensava che la compagnia conoscesse quindi adesso la sua famiglia sapesse dove abitava eccetera eccetera. In quel momento la ragazza sente davvero tanta pressione. È a un passo dalla salvezza ma è letteralmente vicino al suo guzzino alla persona che le ha fatto molto male nel corso di quegli anni. L'ha rapita l'ha tenuta segregata. La sua intera famiglia intanto ovviamente è molto entusiasta di rivederla ma rimane comunque molto cauta e anche se le domande sono davvero tantissime vorrebbero letteralmente stare tutto il tempo a chiedere le cose cercano comunque di non metterle troppa ansia e di godersi il momento insieme perché comunque lei era lì stava bene l'hanno vista ok quindi magari ci sarebbe stata anche occasione di rivederla no? Da quel momento in poi. Cameron dice a Colin che le avrebbe lasciato tutta la giornata in totale serenità per trascorrere un po' di tempo con la famiglia e poi sarebbe tornato a prenderla a fine pomeriggio così la ragazza trascorre la giornata con le sue sorelle e con i suoi genitori nascondendo loro qualsiasi cosa le fosse successo in quei tre anni dopo parecchie ore poi come promesso l'uomo torna a riprenderla lei saluta tutta la sua famiglia e se ne va e penso davvero che sia stato molto difficile per lei essere veramente a un passo dalla libertà così vicini alla libertà ma allo stesso tempo così lontani stare con loro pur sapendo di non poterci rimanere perché se ci avesse provato l'avrebbero uccisa e probabilmente avrebbero ucciso anche loro questo era il pensiero nella sua testa comunque non appena tornano alla loro realtà Cameron purtroppo cambia totalmente atteggiamento nei confronti della ragazza e ricomincia a tenerla chiusa nella scatola per 23 ore al giorno penso che nella sua testa si fosse insinuata la malsana idea che la ragazza si fosse sentita troppo a suo agio tornando dalla sua famiglia e avesse in qualche modo sottovalutato il suo rapitore quindi decide di ristabilire molte regole in casa la tiene chiusa appunto nella scatola per un sacco di tempo e per un periodo non le permette neanche di occuparsi dei bambini o delle faccende domestiche questa situazione però non sarà temporanea come prima se ricordate bene questi periodi potevano durare qualche mese ma poi Cameron finiva sempre per lasciare Colin più libera questa volta però purtroppo non sarà così e tenetevi forte perché Cameron costringerà la ragazza a sottostare a questa routine di segregazione per fin troppo tempo più precisamente dal marzo 1981 al maggio del 1984 più di tre anni anni in cui Colin deve rimanere per la maggior parte del tempo nella scatola e può uscire solo per mangiare e fare i bisogni tuttavia nel corso di questi tre anni succedono anche alcune cose che cambieranno le dinamiche della sua segregazione alla fine del 1982 infatti Janice scopre che Cameron aveva effettivamente abusato di Colin numerose volte e per questo va fuori di testa si infuria quella era letteralmente l'unica richiesta che gli aveva fatto e lui non l'aveva rispettata ma non è l'unico aspetto che cambierà le dinamiche in quella casa Cameron infatti comincia a parlare moltissimo di religione in quel periodo e acquista una bibbia che diventerà letteralmente il libro sacro per la famiglia Hooker l'obiettivo di Cameron in realtà con la bibbia è quello di far avvicinare il più possibile Janice alla religione per un motivo praticamente questa qua è un'altra tecnica di manipolazione in questo modo Janice si sarebbe dedicata al 100% alla religione alla bibbia alla chiesa e avrebbe smesso pian piano di fargli domande di essere arrabbiata per il fatto che avesse abusato di Coline in particolare Cameron si appoggia tantissimo al vecchio testamento e lo fa per giustificare tutte le sue violenze sessuali esercitate sulla povera Coline nella sua mente malata ha pensato di insinuare nella testa di Janice che dovendo sottostare i suoi doveri e obblighi di brava moglie avrebbe dovuto semplicemente farsi gli affari suoi e lasciare che suo marito facesse tutto quello che voleva perché Coline era la sua schiava nel gennaio del 1984 Cameron finalmente torna a lasciare di nuovo un po' più di libertà a Coline e con libertà intendo che comincia a concederle semplicemente di uscire la notte per dormire in bagno sul pavimento e non la costringe più a rimanere nella scatola per 23 ore così pian piano ogni giorno sempre di più Coline ricomincia ad occuparsi delle faccende domestiche a preparare i pasti a badare i bambini e così via le cose però prenderanno una svolta inaspettata nel maggio di quell'anno dell'84 una sera Cameron riferisce a Coline che le spese per la famiglia stavano aumentando e che quindi anche lei Coline si sarebbe dovuta a rimboccare le maniche e trovare un lavoro per contribuire economicamente così nei giorni successivi Coline si mette alla ricerca di un lavoretto e in realtà finisce per trovarlo abbastanza rapidamente trova un posto come governante in un piccolo motel di nome King's Lodge vicino a Red Bluff il motel in questione in realtà distava a pochi chilometri dalla casa degli Hooker così molto spesso è proprio Janice ad accompagnare Coline a lavoro ma altrettanto spesso la ragazza si recae a lavoro in bicicletta in quel periodo in realtà Coline sta meglio che mai come potete immaginare avere un lavoro in situazioni come queste ti fa proprio assaporare un minimo di libertà un minimo di realizzazione personale stare lontana da quella casa e da quelle persone per lei deve essere stato paradisiaco ovviamente però purtroppo l'intero stipendio a fine mese doveva essere consegnato a Cameron tutto proprio fino all'ultimo centesimo a soli pochi mesi dall'inizio del nuovo lavoro di Coline Cameron annuncia di avere qualcosa di nuovo in mente qualcosa che avrebbe potuto dare una svolta alla monotonia che negli ultimi tempi poverino gli stava affliggendo in realtà penso che si riferisse solo a lui quando parlava di monotonia perché come vi dicevo Coline era molto felice aveva cambiato routine trascorreva in tre giornate fuori da casa da un po' di tempo le era anche concesso dormire sul pavimento del bagno quindi si può dire che quegli ultimi mesi della sua vita erano stati la cosa più vicina alla libertà che avesse provato negli ultimi sette anni sette anni Cameron però sicuramente iniziava a sentire la mancanza di Coline in casa quindi una sera fa una sorta di annuncio alle due donne dice loro che avrebbe voluto consumare un rapporto con tutte e due e che aveva anche in mente di sposare Coline e farla diventare la sua seconda moglie non so se è legale negli Stati Uniti vabbè inutile dire che Janice è super contraria a questa decisione dice subito al marito che non ha alcuna intenzione di condividere suo marito con un'altra donna ovviamente anche Coline è contraria ma lei non aveva quasi il diritto di esprimersi in questo caso comunque in quel momento che l'uomo decide di tirare in mezzo il famoso libro sacro come vi dicevo era da un po' di tempo che Janice si era avvicinata alla religione o meglio che era stata obbligata da Cameron a studiare la Bibbia e avvicinarsi sempre di più a ciò che era scritto al suo interno e anche questa volta farà affidamento alla Bibbia più in particolare alla storia di Abramo e della sua prima moglie Sara che se non conoscete vi racconto brevemente non la conoscevo neanche io ho dovuto studiare Sara comunque era una donna sterile e quando arrivò all'età di 75 anni circa secondo come si usava all'epoca fece sposare la sua schiava Agar con suo marito così da farle partorire un figlio questo figlio lo chiamerà Ismaele che sarebbe poi diventato un uomo importante il capostipite di una grande nazione ok questo passaggio viene ripreso da numerosi film e serie come The Handmaid's Tale una serie che parla proprio di un futuro distopico in cui il tasso di fertilità umano è in calo e tutte le donne rimaste fertili chiamate ancelle sono letteralmente assegnate alle famiglie eritarie in cui subiscono stupri da parte delle proprie padrone con lo scopo di dar loro dei figli comunque tornando alla storia è ovvio che Janice sia totalmente contraria a questa proposta la donna infatti anno dopo anno era diventata sempre meno convinta di tutta questa storia di Colleen e del fatto di avere una schiappa anche se non si sa esattamente quando sia avvenuto questo cambiamento in lei questa realizzazione sicuramente il fatto di aver scoperto che Cameron abusava di lei numerose volte ripetutamente senza dirle nulla aveva già fatto aprire gli occhi su tantissime questioni ma ora più che mai Janice comincia a dubitare del marito e quasi a temerlo infatti Cameron aveva cominciato a usare la Bibbia per tenerla a bada e lei se ne era resa conto da questo periodo le cose quindi prenderanno una svolta definitiva un giorno Janice si reca in chiesa che aveva iniziato a frequentare insieme a Colleen da qualche mese ormai anche quello in realtà era un modo di evadere dal marito e passare più tempo fuori casa ovviamente a questo punto della storia tenete conto Janice ha 26 anni la mia età è sicuramente più matura rispetto a quando aveva conosciuto Cameron ben 10 anni prima quando aveva 16 anni ok adesso ha due figli penso che molte cose comunque in lei stessero cambiando siamo a circa metà luglio del 1984 è un caldo pomeriggio d'estate e Janice appunto decide di recarsi in chiesa con i bimbi approfittando dell'assenza di Cameron e Colleen quel giorno va dal pastore e decide di raccontargli letteralmente tutto tutto ciò che le era successo insomma negli ultimi 7 anni del rapimento di Colleen della sua segregazione del fatto che fosse letteralmente la loro schiava delle tattiche manipolatorie di Cameron e di tutto il resto e ok finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo no? cioè il pastore venendo a conoscenza di tutte queste atrocità farà qualcosa per aiutarle no? andrà dalla polizia o almeno cercherà di convincere Janice a confessare il tutto no? no il pastore finisce solo per dare alla donna qualche saggio consiglio valido consiglio e dice semplicemente di lasciare andare Colleen ma soprattutto la sprona a scappare dal marito violento poi aggiunge di andare a denunciarlo alla polizia e basta penso che questi siano tutti ottimi consigli eh per carità ma sinceramente mi aspettavo che avrebbe agito in maniera più concreta sentendo questa lunga storia di comunque rapimento torture letteralmente invece no consiglietti vabbè consigli validi ma solo quello comunque sia Janice torna a casa ma non fa assolutamente nulla per cambiare le cose e ovviamente non rivelerà mai a nessuno di essersi recata in chiesa da sola quel giorno tuttavia da quel momento le cose cambieranno in maniera definitiva per lei penso davvero che i sensi di colpa a quel punto la stessero torturando così una mattina di inizio agosto decide di recarsi di nuovo in chiesa da sola approfittando sempre dell'assenza di Cameron e di Colleen va lì e si confessa di nuovo al parroco che ovviamente le ripete le stesse cose che le aveva già detto il mese precedente e liberare la ragazza e denunciare Cameron per tutto ciò che aveva fatto solo così Janice avrebbe potuto trovare la pace e la luce e inaspettatamente la ragazza questa volta lo ascolta un po' più seriamente lo prende un po' più seriamente e non perde un minuto di più perché quello stesso giorno la donna si reca al motel in cui lavorava Colleen e decide di fare una cosa straordinaria che non si aspettava nessuno in sostanza le racconta tutta la verità non c'era alcuna setta chiamata The Company che la stava osservando e tutto ciò che le aveva raccontato Cameron erano soltanto menzogne per tenerla a bada e impedirle di scappare le racconta che il marito prima di lei aveva già rapito e ucciso una ragazza anche se aveva definito l'accaduto come un incidente ma a questo arriveremo tra poco ovviamente Colleen è totalmente scioccata da queste dichiarazioni le cose da assimilare in quel momento per lei sono tantissime ma arrivati a questo punto siamo quasi sette anni di segregazione e l'unica cosa che può fare la ragazza è fidarsi totalmente di Janice sperando che non sia una trappola per farle del male e magari farla fuori in maniera definitiva cioè doveva fidarsi e non era facile per lei lei pensava davvero che questa The Company esistesse che la stesse spiando Janice quindi decide di aspettarla fino alla fine del suo turno di lavoro poi le due donne insieme si recano a casa dei genitori di Janice che in quel periodo si occupavano quotidianamente dei bambini di Janice e rimangono lì per un paio di giorni praticamente nascondendosi da Cameron che intanto non sapeva assolutamente nulla di tutto ciò che stava accadendo dopo due giorni Colleen riesce finalmente a contattare la sua famiglia e comunica loro di voler tornare a casa senza aggiungere nulla di più la ragazza ovviamente però non ha un dollaro con sé perché se ricordate va a consegnare tutto lo stipendio a Cameron ogni mese quindi chiede a sua mamma di mandarle un po' di soldi per riuscire a tornare in Oregon senza però aggiungere nulla non dà più dettagli la mattina successiva Colleen saluta Janice e se ne va prende il primo autobus che trova e inizia così il suo lungo viaggio verso casa che sarebbe durato tantissimo più dell'autostop ma quando arriva più o meno a metà del viaggio la ragazza decide di contattare Cameron e qua raga momento altissimo lo chiama da una cabina telefonica e lui quasi ha un tuffo al cuore quando sente la sua voce con tono calmo e pacato le chiede dove si trovasse e le dice di tornare subito a casa ma Colleen facendosi scappare una risatina gli comunica che lei se ne stava andando e che non c'era assolutamente niente che lui potesse dire o fare per farla tornare indietro in quel momento lui ritira fuori tutta la storia della setta del fatto che sicuramente la stavano già inseguendo per torturarla ucciderla ma a quel punto Colleen le aggiungerei finalmente non crede più ad una sola parola che esce dalla bocca di Cameron quindi gli dice e ribadisce che se ne stava andando via per sempre in quel momento l'uomo comincia a urlare e piangere come un bambino disperato perché nella sua testa sapeva benissimo che era tutto finito e che non c'era modo di far tornare la ragazza da lui così lei riattacca mentre Cameron stava ancora piangendo e continua il suo viaggio verso casa e verso la libertà all'età di 27 anni e dopo ben 7 anni di prigionia Colleen si riunisce finalmente con la sua famiglia con la quale potrà condividere la sua assurda storia ma prima di concentrarci su quello che accadrà da quel momento per lei dobbiamo tornare un attimo da Janice perché purtroppo lei non avrebbe assaporato la stessa libertà di Colleen la ragazza infatti dopo averla liberata decide di trascorrere un paio di settimane a casa di suoi genitori letteralmente nascondendosi da Cameron per la troppa paura tuttavia finisce per tornare a casa con lui insieme ai due bambini non so una scelta un po' così ma penso che si fosse comunque ritrovata alle strette aveva tanta paura era l'unico posto che aveva quando sono arrivato a questa parte della storia ho di nuovo avuto molta paura perché speravo davvero che tutta questa situazione sarebbe finita con la fuga di Colleen e Janice alla fine pensavo avrebbe fatto la stessa cosa però no purtroppo Janice non aveva la stessa forza d'animo di Colleen basti pensare che Cameron l'aveva sposata quando lei aveva solo 16 anni e ora che ne aveva 26 davvero non conosceva nessun'altra sicurezza tra tante virgolette oltre a lui la ragazza non ha autostima ed è totalmente sottomessa ai voleri del marito è sempre stato così quindi lei non conosce nessun'altra realtà oltre alla sua vita da moglie obbediente di Cameron e in realtà quando torna da lui le cose per qualche giorno sembrano andare bene perché Cameron cerca di far andare meglio le dinamiche tra di loro anche all'interno del matrimonio ma Janice in quel periodo comincia a sviluppare una fortissima ansia che non aveva mai provato prima inizia davvero a temere che ora con l'assenza di Colleen e quindi con l'assenza di una schiaffa a cui lui poteva effettivamente fare del male sarebbe stata lei a subire tutte le torture e le violenze di Cameron Janice non riesce nemmeno a chiudere occhio la notte per paura che il marito faccia del male a lei o ai bambini e così a poco più di un mese dal suo ritorno decidi di prendere i bambini e scappare via questa volta per sempre meno male che Cameron in quel breve lasso di tempo di un mese non le ha fatto niente non ha fatto niente a lei e ai bambini cosa che poteva tranquillamente fare la ragazza torna quindi a casa dei suoi genitori e contatta Colleen per dirle che era finalmente riuscita a scappare da Cameron e questa volta in maniera definitiva e qui devo aprire una piccola parentesi importante dovete sapere che dopo che Colleen era tornata a casa le due non avevano mai smesso di chiamarsi o scambiarsi delle lettere e non avevano smesso di sentirsi nemmeno con Cameron vi invito a non giudicarle cercare ancora una volta di immedesimarvi nella vittima perché ora parleremo di una dinamica molto comune in queste situazioni Colleen dopo tutti gli anni di segregazione aveva sviluppato una sorta di sindrome di Stoccolman verso i suoi rapitori creando con loro un legame molto forte una sorta di legame familiare per chi non lo sapesse parliamo un attimo della sindrome di Stoccolman perché non ne abbiamo mai parlato in questo canale questa sindrome è un particolare stato di dipendenza psicologica e o affettiva che si manifesta in alcuni casi in vittime di episodi di violenza fisica verbale o psicologica il soggetto affetto dalla sindrome durante i maltrattamenti subiti prova un sentimento positivo nei confronti del proprio aggressore un sentimento che può spingersi addirittura fino ad arrivare all'amore e alla totale sottomissione volontaria l'espressione fu usata per la prima volta da Conrad Hussle un agente speciale dell'FBI in seguito ad un episodio avvenuto in Svezia nell'agosto del 73 quattro impiegati di una banca di Stoccolma tenuti in ostaggio da due rapinatori per sei giorni una volta rilasciati espressero sentimenti di solidarietà verso i sequestratori scusate non dovrei ridere non so perché vi fa ridere comunque arrivando anche a testimoniare a loro favore mostrando anche comportamenti ostili verso le forze dell'ordine e i giudici non c'è niente da ridere scusate quindi Colleen in realtà dopo essere tornata a casa non ha mai denunciato Cameron per tutte le atrocità che le aveva fatto ed era addirittura rimasta in contatto sia con lui che con Janice ma anche qui le cose stanno finalmente per cambiare perché nel 1984 nel novembre del 1984 Janice decide finalmente di andare alla polizia non so esattamente che cosa le sia scattato in testa ma secondo alcune fonti il senso di colpa la stava consumando giorno dopo giorno e non riusciva più a vivere sapendo che Cameron avrebbe potuto fare ancora del male ad altre ragazze una mattina quindi Janice si è recata alla centrale di polizia accompagnata dai suoi genitori e ha raccontato tutto e con tutto intendo proprio tutto per cominciare però la ragazza ha chiesto la totale immunità in modo che anche dopo le dichiarazioni lei non sarebbe stata processata né imprigionata in poche parole dice alla polizia che avrebbe collaborato al 100% dando loro tutte le informazioni che servivano a patto che non ci sarebbe stata nessuna conseguenza per lei e la polizia essendo molto curiosa di sentire la sua storia decide di concederle l'immunità e così la ragazza racconta tutto e non si limiterà solo a raccontare del rapimento di Colleen e della sua segregazione durata 7 anni ma deciderà anche di raccontare un altro fatto ancora più macabro se ricordate il giorno del rapimento di Colleen Cameron l'aveva minacciata dicendole che le avrebbe tagliato le corde vocali per farla stare zitta aggiungendo che l'aveva già fatto con un'altra ragazza ecco a quanto pare non stava mentendo era tutto accaduto esattamente un anno prima rispetto al rapimento di Colleen e il nome di questa ragazza era Marlitz Spanheik Janice racconta alla polizia che un giorno si trovava in una macchina con Cameron quando all'improvviso avevano visto questa giovane ragazza camminare da sola lungo la strada le avevano quindi offerto un passaggio per accompagnarla a casa e lei aveva accettato Marlitz quella mattina aveva avuto una brutta discussione con il suo fidanzato con il quale si era trasferita da poco in un appartamento lì a Red Bluff e quindi aveva deciso di tornare da sola a piedi quel giorno però Marlitz Spanheik non avrebbe fatto ritorno a casa il suo fidanzato denunciò la sua scomparsa soltanto il giorno seguente e pensate il caso della sparizione di Marlitz è rimasto irrisolto fino a quel giorno fino a quando Janice Hooker in quel momento non ha deciso di confessare tutto alla polizia ma in realtà è ancora irresa ci arriviamo la ragazza continua raccontando che dopo aver fatto salire Marlitz in macchina Cameron aveva guidato fino a una strada isolata e lo scenario era stato praticamente lo stesso di quello del rapimento di Colleen l'uomo dopo averla minacciata con un coltello le aveva messo la scatola di legno in testa l'aveva portata fino a casa sua legata nel seminterrato e torturata ma le cose come immaginate erano purtroppo andate in maniera molto diversa perché Marlitz e Colleen erano persone totalmente diverse Marlitz non aveva avuto la stessa forza di Colleen e purtroppo aveva perso quasi subito le speranze di mettersi in salvo quindi durante le prime ore del rapimento non aveva fatto altro che urlare e piangere chiedendo supplicando di essere liberata ed è normale cioè penso che molti di noi farebbero la stessa cosa Cameron tuttavia era andato nel panico nel sentire Marlitz urlare così forte e temendo di essere sentito dai vicini aveva deciso di riciderle le corde vocali come se fosse davvero in grado di farlo no? come se fosse un esperto chirurgo cosa che ovviamente non era e infatti tentando di portare a termine questa operazione uccise Marlitz nel giro di pochi minuti la ragazza era morta dissanguata Janice confessa alla polizia di aver seppellito il corpo di Marlitz in una fossa vicino alle colline di Red Bluff così degli agenti si recano nel posto indicato dalla ragazza nella speranza di disseppellire la vittima e dare un senso a tutta questa storia perché se ci pensate bene in quel momento gli agenti stavano semplicemente ascoltando una lunga storia di rapimenti e uccisioni raccontata da una ragazza a 26enne senza alcuna prova tangibile ecco il corpo di Marlitz sarebbe potuto essere una prova schiacciante eppure purtroppo il suo corpo non verrà mai ritrovato nemmeno nel punto indicato da Janice la ragazza così inizia a pensare che probabilmente negli anni successivi Cameron avesse spostato il corpo della ragazza per depistare la polizia in caso di sospetti o in casi come questo quindi che l'altra complice Janice che sapeva dove si trovava il corpo parlasse e probabilmente è andata proprio così ma arrivati a questo punto la polizia decide finalmente di riaprire il caso di Marlitz e di credere alle dichiarazioni di Janice spronandola a portare altre prove per incolpare Cameron così Janice decide di consegnare alla polizia una fotografia di Marlitz che Cameron gli aveva scattato nel semi interrato poco prima della sua uccisione prova che lo metterà in cima alla lista dei sospettati e basterà per arrestarlo e iniziare il procedimento per la raccolta di altre prove contro di lui per portarlo poi a processo da quel momento però le cose si fanno abbastanza complicate per tutta una serie di motivi in primo luogo in quel momento Cameron viene accusato solo tra virgolette del rapimento e dell'uccisione di Marlitz Spannake tutta la storia di Colleen però non poteva essere confermata data la mancanza di prove Janice Hooker e Colleen Stan finiscono quindi per essere chiamate entrambe in tribunale per testimoniare contro Cameron Hooker per sequestro di persona torture violenza sessuale e omicidio l'accusa però si ritroverà molto in difficoltà in aula e il motivo è semplice nonostante Janice e Colleen fossero effettivamente state vittime di Cameron alla fine erano riuscite ad andarsene da sole senza nemmeno denunciare subito alla polizia infatti ormai erano passati quasi sei mesi da quando Colleen era tornata a casa e nonostante tutto la ragazza non aveva mai sporto denuncia contro Cameron e Cameron non era mai andato a cercarla come se effettivamente lei in qualsiasi momento se ne sarebbe potuta andare senza ripercussioni e era così però era stata manipolata dal credere che sarebbe stata uccisa e in più era anche vittima della sindrome di Stoccolma quindi comunque come spiegare tutto questo alla giuria dell'epoca come spiegare il motivo per cui le vittime non hanno denunciato sembra banale adesso ma fidatevi non lo era i giudici si trovavano davanti ad uno dei casi più lunghi strani e complessi della loro carriera un caso in cui qualsiasi ulteriore testimonianza sarebbe stata fondamentale e decisiva per l'accusa in aula sono stati presentati oltre alle testimonianze delle vittime anche i numerosi oggetti di tortura utilizzati da Cameron compresa quella famosa scatola di legno che utilizzava sulle vittime durante il rapimento sono state mostrate anche le decine di fotografie che Cameron scattava a Colleen quando lui le praticava le tecniche di bondaggio comunque quando si trovava in una condizione di schiamato tuttavia la difesa sarà molto agguerrita e darà davvero del filo da torcere all'accusa in aula infatti verrà presentata anche una copia di quel famoso contratto di schiamato stipulato dalla società The Company no? ecco bene quel famoso contratto era stato firmato dalla stessa Colleen il che mette ovviamente in difficoltà l'accusa perché la difesa affermerà che la ragazza era consapevole e soprattutto favorevole a tutto ciò che Cameron le avrebbe fatto a seguito di quella firma tutti i presenti in aula inoltre avevano un'unica domanda in testa per tutto il tempo ovvero perché Colleen Stan è rimasta così a lungo insieme al suo rapitore se aveva avuto centinaia 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 di occasioni per scappare la corte si stava concentrando soprattutto su questo aspetto e infatti per l'accusa sarà davvero difficile convincere la giuria del fatto che fosse un vero e proprio caso di manipolazione e tortura psicologica durante anni è stata quindi necessaria la presenza di psicologi e psichiatri per rafforzare le testimonianze delle vittime e appoggiare la versione dell'accusa questi hanno spiegato che Colleen era stata rapita e segregata per anni era stata totalmente isolata dal mondo esterno e di conseguenza queste condizioni l'hanno portata a fidarsi ciecamente solo ed esclusivamente del suo rapitore Colleen praticamente era entrata in una sorta di modalità di sopravvivenza immaginate passare interi giorni settimane mesi senza vedere la luce del sole mangiando e bevendo pochissimo e essendo torturato in qualsiasi momento di libertà senza sapere neanche se sia giorno o notte cioè tutto ciò ha creato un'atmosfera di dipendenza psicologica fortissima e anche causato la sindrome di Stoccolma l'accusa poi parlerà di tutte le minacce che Cameron aveva fatto a Colleen durante gli anni minacce di morte minacce della società clandestina e minacce di sterminare tutta la sua famiglia che già di per sé solo queste sono un crimine comunque durante il processo sarà fondamentale la presenza di uno psicologo forense di nome Chris Hatcher che ha dichiarato che le condizioni in cui viveva la ragazza hanno instaurato nella sua mente un nuovo modello di vita in sostanza Colleen non poteva capire cosa fosse meglio per lei in quel momento perché il suo unico pensiero era di rimanere in vita e di non far infuriare Cameron che avrebbe potuto ucciderla in qualsiasi momento le parole di questo psicologo sono state piuttosto forti ma soprattutto chiare e sono state comprese alla perfezione anche dalla giuria di fatto smontando completamente la versione della difesa secondo cui Colleen era sempre stata consensiente comunque sia alla fine Cameron Hooker è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio di aggressioni sessuali di sequestro di persona e altri capi d'accusa riconducibili ad aggressioni fisiche e sessuali purtroppo però non verrà mai condannato per l'uccisione di Marlitz in quanto il suo corpo non è mai stato trovato infatti ad oggi il suo caso rimane ufficialmente irrisolto Cameron Hooker è stato infine condannato a 104 anni di reclusione nel corso di tutti questi anni che sono passati dalla condanna ad adesso le sue richieste per ricevere la libertà condizionale sono state tantissime ma sono sempre state tutte respinte compresa l'ultima presentata nel 2022 concludo dandovi qualche aggiornamento su cosa hanno fatto Janice e Colleen dopo il processo perché so che siete curiosi ovviamente Janice ha cambiato il suo nome e anche il cognome e ha deciso di conseguenza di cambiare anche il cognome dei figli in modo da dimenticarsi per sempre di Cameron è diventata un'assistente sociale e si è risposata cominciando così una nuova vita Colleen invece ha deciso di continuare gli studi e si è laureata in economia ma il suo passato in realtà non l'ha mai davvero abbandonata la donna ha rilasciato tantissime interviste ha partecipato a molti documentari durante gli anni è anche diventata volontaria presso un'organizzazione che aiuta le donne vittime di abusi ancora oggi grazie alle sue interviste la storia di Colleen viene ricordata da milioni di persone c'è qualcosa di estremamente inquietante in tutta questa vicenda la scatola le 23 ore al giorno di prigionia il fatto che fosse a tutti gli effetti una schiava tutto quanto riguarda questa storia è semplicemente inquietante se vogliamo guardare il lato positivo possiamo dire che per fortuna almeno lei è riuscita ad uscirne e ha fatto anche poi qualcosa per aiutare altre donne che hanno vissuto situazioni simili alle sue quindi dai per una volta abbiamo una sorta di lieto fine e infatti questo video finirà nella playlist dei sopravvissuti questo è il secondo episodio ufficiale della playlist sopravvissuti e questo era tutto vi invito come sempre a lasciarmi un commento per farmi sapere cosa pensate di tutto questo casino e mi raccomando siate educati perché nessuno di noi mi auguro può mai capire appieno cosa ha dovuto passare Colleen durante quei sette anni di prigionia come sempre vi ricordo che racconto queste storie perché non siano mai dimenticate affinché le persone siano consapevoli di cosa ci sia là fuori state sempre attenti mi raccomando e soprattutto non accettate passaggi dagli sconosciuti l'ultimo pensiero di questo video va ovviamente a Marlitz una giovane donna che è stata quasi sicuramente uccisa da Cameron e che non deve assolutamente essere dimenticata detto questo se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se non vi è piaciuto che vedevo di in ogni caso ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un uomo un uomo che ultimamente ha fatto tanto parlare di sé il suo processo sta per concludersi se è concluso manca solo la sentenza e le persone sono rimaste inorridite da tutto ciò che è emerso quindi ecco spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ha incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà ricorda youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao